Un prodotto che mi ha totalmente svalor di testato è questo di John Master Organics, il Lip Calm, che è un ottimo burro labbra che promuovo e che mi piace sicuramente molto di più anche del Badger. Quindi questo ha superato ogni mia aspettativa, ha una scadenza di 8 mesi, è un 4 grammi di prodotto, quindi siamo lì, e ha la certificazione USDA Organic, che è la più seria delle certificazioni in materia di eco-bio. Quindi è un prodotto consigliatissimo, sembra di mettere presente un olio sulle labbra, un po' come il rossetto di Liquid Flora.